Ciao, eccoci con un nuovo video e in particolare eccoci con la lezione 32 del minicorso sui sistemi dinamici nella quale andremo a vedere un concetto molto molto importante che non si limita a quello che vedremo chiaramente ma può essere esteso in molti molti modi, ovvero quello di derivata di lì. Questo è uno strumento che, uno strumento non è il termine corretto insomma però capiamoci insomma, che ho già anticipato nella lezione 31 e nel momento in cui mi interessava introdurre un modo possibile per capire che è una funzione integrale primo di un certo campo, non conoscendo le soluzioni, le curve integrali di questo. La derivata di lì appunto ci dice come una funzione, nel caso essa sia valutata su funzioni, una funzione varia lungo un campo, quindi lungo le curve integrali di questo, lungo le sue soluzioni. Come detto si può estendere a campi vettoriali e a tensori in generale, ok? Però ci limiteremo a questo e magari in video futuri e separati da questo minicorso introduttivo lo vedremo quantomeno per i campi vettoriali che è molto interessante, per esempio nello studio della teoria dell'integrabilità di campi vettoriali, ok? Quindi l'idea di tutto quello che vedremo è che la derivata di lì mi permette di calcolare come una funzione varia lungo le curve integrali di un campo vettoriale, ok? Molto intuitivo insomma. Vediamo però con un disegno insomma di chiarirci un po' l'idea. Quindi consideriamo di avere un aperto U di Rn come al solito, un campo vettoriale X definito su esso e una funzione scalare F, ok? Ho disegnato quindi in giallo il nostro aperto di Rn e il campo vettoriale X in viola e in rosso quello che è il gradiente di F. Perché ci serve il gradiente di F? Se io ti parlo di come una funzione varia rispetto ai suoi input, ti verrà in mente senz'altro la derivata, no? E questa ci dice in maniera assoluta, se vogliamo, come la funzione F varia rispetto ai suoi input. Qualora poi gli input siano multipli, quindi una funzione definita da Rn in R, allora invece che le derivate parliamo del gradiente, no? Benissimo, quindi il gradiente non ci dà altro che un vettore, un campo vettoriale in realtà. Quindi per ogni punto avremo un vettore che è il gradiente di F in quel punto, ovvero come varia F per una piccola variazione in quel punto X, ok? Quindi noi abbiamo questi due vettori, rosso e viola, che sono il nostro gradiente e la nostra X. L'idea è che la derivata di V ci misura quanto è lunga la proiezione di questo gradiente, questo vettore rosso, sul vettore viola, quindi sul vettore del campo. Chiaramente, essendo che queste proiezioni possono essere diverse da punto in punto, è intuitivo capire che la derivata di lì lungo un campo di una funzione sarà a sua volta una funzione, ok? E questa funzione in ogni punto ci dirà la variazione di F lungo il campo X in quel punto, ok? Quindi in termini di notazione la derivata di lì di una funzione F rispetto ad X è denotata con L di XF e la L può essere o normale, maiuscola o curva un attimo, insomma, dipende un po' dalla scelta in latte che useresti, matcal per esempio, L. e comunque l'idea è che è la derivata lungo X, quindi X è a pedice il campo, di F, F è l'input. Quindi com'è che varia F lungo le curve integrali di X? Quindi prima di definire propriamente la derivata di V, vediamo se riusciamo ad arrivare a una costruzione pratica, insomma, di come una generica funzione F vari lungo le curve integrali di un campo X. Ed è abbastanza semplice farlo, ok? Infatti basta usare la regola della catena o di derivazione composta, insomma. Quindi se noi valutiamo F lungo una generica curva integrale del campo X, quindi se noi valutiamo F in F di TX di Z, dove F di TX è il flusso del campo X al tempo T, quindi questa non è altro che la posizione dove la nostra soluzione si troverà al tempo T, qualora il tempo 0 fosse in posizione Z, ok? Se noi valutiamo F in questa, la deriviamo rispetto al tempo, quindi capiamo come varia F muovendoci lungo questa soluzione, per la regola della catena abbiamo la derivata della funzione esterna, che essendo l'input un vettore, sarà un gradiente, valutata nell'input prodotto scalare con la derivata della funzione interna rispetto al tempo, ok? Se ti ricordi un po' le proprietà del flusso, questo definisce sostanzialmente in termini più geometrici e qualitativi l'equivalente di quella che è la soluzione di un'equazione differenziale. L'equazione differenziale è quella definita dal campo. Quindi se noi deriviamo rispetto al tempo questo oggetto qui, otteniamo esattamente il campo X valutato in quel punto, F di T Z X, qua ci andrebbe una X, ok? E quindi abbiamo ottenuto che la variazione di F lungo la curva integrale F di T X che parte da Z dal tempo 0 è definita come prodotto scalare tra il gradiente di F ed X valutato poi nel punto F di T X di Z, ok? Quindi veniamo ora alla derivata di Lì. Com'è che è definita questa derivata? Lei è una funzione, nel caso di derivata di Lì di funzione. Se facessimo invece, se studiassimo invece la derivata di Lì di un campo lungo un altro campo, avremmo che la risultante sarà a sua volta un campo, ok? Però in questo caso di funzione avremo una funzione. Essa va da U in R, quindi per ogni punto X ci andrà a definire come varia F lungo il campo X in quel punto. Ed è definita esattamente come quello che abbiamo ricavato sopra, ovvero come il gradiente di F prodotto scalare in X e poi andrà a essere valutato eventualmente in un certo punto X di U, ok? Quindi ricordiamo giusto in conclusione che cos'è un integrale primo. Abbiamo visto che un integrale primo è una funzione che non varia, le cui curve integrali sono invarianti rispetto al campo, ovvero è una funzione che non varia lungo le curve integrali del campo X, ok? Cosa vuol dire che F non varia lungo le curve integrali? Vuol dire che F valutato in fili TX di Z è uguale a F di Z. Quindi se noi deriviamo questo oggetto qui rispetto al tempo, otteniamo che è uguale alla derivata di questo oggetto qui rispetto al tempo, ma qui la dipendenza dal tempo è sparita e quindi otteniamo chiaramente 0. Questa però abbiamo visto che è esattamente la derivata di lì lungo X di F, ok? E quindi otteniamo esattamente questa caratterizzazione molto concreta, molto pratica insomma, ovvero che F da U in R è un integrale primo di X se soltanto 6 la sua derivata di lì lungo X è identicamente 0, ok? Per concludere questo video ho deciso di introdurre un oggetto che ho nominato alcune volte qui e lì insomma nelle precedenti lezioni, che è quello di sistema emiltoniano o campo vettoriale emiltoniano. Non ho tempo in questo minicorso di avventurarmi troppo nei dettagli di questa area della meccanica analitica o comunque dei sistemi dinamici. Però siccome mi interessano particolarmente, probabilmente dedicherò una serie di video solo a loro insomma. Però questi sono diciamo un esempio molto semplice per capire che cosa sia un integrale primo in questo contesto e come questa caratterizzazione qui ci renda molto facile verificare che una funzione è integrale primo di un campo, ok? Se non sai cos'è un campo emiltoniano, intanto ti ricordo che ho fatto un video dedicato a questa definizione. Puoi recuperarlo in giro per il canale insomma. Comunque un sistema emiltoniano non è altro che un'equazione differenziale, un sistema dinamico definito in questa forma qui. Quindi intanto lo spazio delle fasi è sempre di dimensione pari, quindi R alla 2n nel nostro caso, per un qualche n. Ed è definito da una matrice J, che è chiamata matrice simplettica o matrice di Darbou, che adesso andremo a definire, per il gradiente di una certa funzione H di Z. Questo è il campo emiltoniano di H, ok? J è la matrice simplettica, che è una matrice antisimmetrica, una matrice a blocchi, i cui blocchi diagonali sono le matrici nulle, di dimensione n per n, e quelli extra diagonali sono qui abbiamo una matrice identità, n per n, e qui la sua opposta. È antisimmetrica, cosa vuol dire? Vuol dire che la sua trasposta è uguale alla sua opposta. J trasposto è meno J, ok? H, che è una funzione regolare, quantomeno differenziabile, è detta la funzione emiltoniana del sistema. Perché è importante questa H? Beh, intanto perché definisce la dinamica, ma poi perché c'è questa proposizione molto interessante, semplice da dimostrare, e l'ho usata appunto per andare alla ciccia, insomma, di quello che abbiamo introdotto e vederne un esempio concreto. H è sempre integrale primo del suo campo emiltoniano, ok? Quindi ogni campo emiltoniano ha almeno un'energia conservata, che è quella che definisce la dinamica. Andiamo a dimostrarlo usando la caratterizzazione che un integrale primo è una funzione la cui derivata di lì lungo il campo è identicamente nulla. E così concludiamo questa lezione, insomma. La derivata di lì lungo xh di h, qua la valuto in z, perché esattamente questa è una funzione, insomma, da u in r, u in questo caso r alla 2n, per definizione non è altro che il gradiente di h in z, prodotto scalare con il campo xh in z. Scrivendo poi esplicitamente come è fatto il campo xh, quindi j per il gradiente di h, e usando questa notazione di pairing, di accoppiamento, che rende un po' più facile capire quello che andremo a fare dopo, insomma, tipica del prodotto scalare. Sappiamo poi che una matrice può essere trasportata da destra a sinistra a patto di passare alla sua trasposta, no? Quindi questo è uguale a j trasposto per il gradiente di h, portando questa di là, per il gradiente di h, qui ci va una chiusura della parentesi angolare. j però è antisimmetrica, quindi j trasposto è meno j. Quindi se noi mettessimo un meno davanti, otterremmo che il gradiente di h, prodotto scalare con j volte il gradiente di h, è uguale a meno j volte il gradiente di h per il gradiente di h. Chiaramente il prodotto scalare è simmetrico, quindi l'ordine non cambia, quindi quello che c'è qua ha meno del segno esattamente quello che c'è qua. Questo ci porta a dire che due volte quello che abbiamo ottenuto è uguale a zero. Benissimo, quindi adesso abbiamo la possibilità di concludere effettivamente, perché il 2 possiamo semplificarlo chiaramente. Questa è esattamente la derivata di, questo è il campo emeltoniano di h, no? Quindi questa è esattamente la derivata di lì lungo xh di h. Abbiamo appena mostrato che è zero per ogni z, visto che z era arbitrario, e quindi possiamo concludere cosa? Che h è integrale primo del suo campo emeltoniano, ok? Quindi con ciò direi che possiamo chiudere questo video, spero che sia stato abbastanza chiaro, insomma, e che ti possa interessare anche l'anteprima dei video dedicati ai sistemi emeltoniani più avanti. Fammelo sapere magari con un commento se hai qualche interesse particolare in questa direzione. Ti anticipo che io per quanto riguarda la meccanica classica me la cavo ancora, se mi sposto invece sulla meccanica quantistica, perché anche in quel caso lì si può parlare di sistemi emeltoniani, o di sistemi in dimensione infinita, non so, nulla, quindi chiaramente lì non potrò darti una mano, insomma, se è in quella direzione che ti interessano le cose. Con ciò direi che possiamo chiudere il video effettivamente, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!